Il Vigili del Fuoco Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Torino, Nole, Volpiano, San Maurizio e Rivalta. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, pare che ci siano delle coperture in Eternit, il che rende il rogo un rischio sia per i soccorsi che stanno operando, sia per l'ambiente. L'incendio pare essere molto esteso. Non sono stati segnalati feriti o intossicati. Il Vigili del Fuoco